Qual è il rapporto con la città di Barcellona? Sono venuto qui a Barcellona e una volta sono entrato anche in questo teatro, prima dell'incendio, e devo dire che è stata una grandissima emozione. Da allora il mio legame con la città è veramente molto forte. Io dico sempre, parlando con i miei amici, parlando con mia moglie anche, che sarebbe veramente una città in cui io mi trasferirei domani, cambierei nazione, cambierei tutto e mi trasferirei qua. Perché comunque c'è un senso veramente di grande ordine, di grande energia. Ecco, quello che differenzia Barcellona dalle altre città, per me, nella mia sensazione personale, è una sensazione di grande energia. Ed è questo che la rende molto speciale.